Noi insegniamo la lingua italiana agli studenti immigrati, profughi, sono spesso minorenni non accompagnati e vengono dalle regioni in guerra, dalle regioni in crisi, vengono dal Medio Oriente, dal Marocco, dall'Egitto, dalla Siria. Parlando con loro capisci, intuisci fino a che punto loro sono i sopravvissuti, sono coloro che fuggono da queste guerre, si sottraggono proprio alla possibilità di essere reclutati, ad esempio come talibani in Afghanistan. Vogliono imparare l'italiano, parlando con loro si capiscono tante cose che leggendo i giornali non si percepiscono. A me interessa soprattutto mettere in relazione questi adolescenti arabi con i nostri giovani italiani. Io trasformo spesso alcuni liceali italiani in volontari, spingendoli ad insegnare la nostra lingua ai loro coetani immigrati e questo secondo me è l'unico modo che abbiamo per battere il terrorismo. Un'integrazione vera che non può essere affidata al legislatore, non può essere delegata alla classe politica. La classe politica dovrà fare ovviamente un regolamento, dovrà stabilire le norme, però noi, tutti noi, dobbiamo metterci in gioco per parlare, guardare negli occhi queste persone, scoprire le loro storie. Solo in quel modo potremo riuscire ad abbattere il pregiudizio che purtroppo è la psicosi che rischia di mortificare anche la nostra azione. Grazie a tutti.